Grazie Presidente, onorevoli colleghi, siamo oggi a discutere qui un provvedimento che questo Paese aspetta da tanti anni. Nelle legislature scorse tutti hanno promesso questa ormai mitologica riduzione del numero dei parlamentari, però poi qualcosa è andato sempre storto, perché era ricompresa in riforme megalomani, a volte ai limiti della follia, oppure perché semplicemente la classe politica era animata da una sorta di istinto di autoconservazione che purtroppo ha minato profondamente la credibilità e il prestigio di queste istituzioni a cui apparteniamo. Io per questo mi onoro di far parte di questa forza politica che fa qualcosa di inedito in questo Paese, cioè concretizza infatti quello che promette a parole. Questo noi vogliamo, noi vogliamo portare a compimento questo progetto e vogliamo farlo davvero. Vogliamo farlo davvero perché siamo convinti che sia importante e non solo per una questione di abbattimento dei costi, che sicuramente è importante anche questo, ma anche proprio per una questione di miglioramento delle istituzioni e per una questione di recupero di fiducia e prestigio di questo Parlamento. La questione dell'abbattimento dei costi non lo nascondiamo, è importante perché 500 milioni di euro a legislatura non sono pochi. Non sono pochi se sono sommati ai 200 milioni che già facciamo risparmiare con il taglio dei vitalizi dei parlamentari, ai 150 milioni che facciamo risparmiare con il taglio dei vitalizi dei consiglieri regionali, con i 100 milioni che facciamo risparmiare con il taglio delle pensioni d'oro degli ex dipendenti di Montecitorio. Insomma, in totale parliamo di un miliardo di euro che possono essere destinati ai cittadini e alle esigenze dei cittadini e questo, insomma, non è secondario perché, torniamo lì, il problema è questo, che una classe politica tesa all'autoconservazione è teso anche a sprecare delle risorse che invece potevano essere destinate ad altre finalità. E noi, con i fatti, abbiamo dimostrato che questo è possibile. Non siamo supereroi, come abbiamo fatto a fare questo in 448, siamo esseri umani con la nostra umana limitatezza che però, appunto, hanno dimostrato che una politica diversa è possibile, è possibile fare campagne elettorali senza spendere milioni e vincere le elezioni, è possibile vivere e fare il parlamentare senza stipendi faraonici, è per questo che vogliamo anche tagliare le indennità dei parlamentari, perché ricordo che i parlamentari italiani sono anche i più pagati al mondo e questo non ha alcun senso e vogliamo che queste risorse, appunto, vengano, come abbiamo fatto noi, vengano utilizzate per cose utili ai cittadini. Penso alla costruzione di strade, ad aiutare scuole, penso ad aiutare le imprese, a comprare ambulanze, ad acquistare beni utili, appunto, alla collettività. Noi questo l'abbiamo fatto, ancora parole e non fatti. Per noi, però, è anche importante, appunto, migliorare l'efficienza di questa istituzione, perché meno parlamentari significa anche parlamentari meglio selezionati, parlamentari più responsabili, parlamentari più lontani dalle logiche localistiche, quindi poi anche, purtroppo, da quegli interessi clienterari che sono legati alle logiche territoriali, e sono anche parlamentari più lontani da zone grigie in cui si possono infiltrare le lobby. E per questo, per noi, è anche importante, poi, che questo Parlamento voti la legge sul conflitto di interessi, che presto speriamo, insomma, di presentare e di discutere con voi. Ancora, concludo, Presidente, per noi, del Movimento 5 Stelle, è fondamentale la selezione della classe politica e della classe dirigente. E questo provvedimento, secondo noi, va anche in questa direzione. I partiti politici, per sopravvivere, dovranno selezionare meglio i propri candidati. Dovremmo farlo tutti, questo. Noi non possiamo ingerire nelle scelte degli altri, possiamo, però, in qualche modo, fornire un modello. Il nostro modello è quello della selezione aperta a tutti, la selezione attraverso i curricula dei candidati, una selezione, però, che prevede anche un aspetto fondamentale, il fatto che il casellario penale del candidato sia pulito. E questo non è giustizialismo. È la questione morale che, da sempre, affligge, purtroppo, questo Paese. È una questione di fiducia, perché se i cittadini devono avere fiducia dello Stato, sullo Stato non devono esserci ombre. Grazie.